Allora ragazzi, per fare questo video, diciamo che nei commenti dovrete chiederci delle domande, ma poi dovrete andare sul canale Ted Misaki, che è di Kira, per, diciamo, vedere le risposte che daremo. D'accordo? Poi, credo che, da quello che ho capito, poi noi e Kira dovrebbero ricaricare il video nel loro canale e fare anche le risposte. Poi le risposte le ricaricherò anch'io nel mio canale. Diciamo che più o meno sarà difficile, ma è questo. Vero e di essere stata chiara. Mi piacere se non ho fatto questo video in tempo, ma anche per me la settimana è stata un pochino pesante. Avrei voluto anche pubblicare di più, ma, diciamo, non ho avuto il tempo.